Oggi il Comune di Chieti ha conferito l'ultimo sacchetto di rifiuti indifferenziati nella discarica a Casoni che dopo 30 anni chiude. Ora la Deco dovrà scegliere un altro sito dove conferire l'indifferenziato fino al 31 dicembre. L'Ager, l'Agenzia Gestione Integrata Rifiuti, entra il 2024 a fare il bando per il nuovo gestore. Ma c'è una certa preoccupazione tra i teatini per l'aumento dell'Atari. L'assessore all'ambiente Chiara Zappalorto precisa. Sì, oggi si chiude un'era per la nostra città, la discarica è andata a saturazione, quindi adesso inizieranno le trafile tecniche per la chiusura e quindi inizierà una nuova era anche per la nostra città da questo punto di vista. Dove verranno conferiti i rifiuti? La Deco si occuperà in questo ultimo mese e mezzo di qui al 31 dicembre di continuare ad organizzare il conferimento. Dopodiché sarà l'Agir, che è la nascente autorità per la gestione integrata dei rifiuti, a fare la gara che individuerà il futuro conferimento dell'indifferenziato della città di Chieti. L'assessore Zappalorto sottolinea il ruolo importante dell'Agir in tal senso. Quando l'Agir entrerà al pieno delle sue funzioni ci sarà un gestore unico, l'ambizione sarà anche quella di avere tariffe uniche, quindi di rendere più omogeneo e più armonico il nostro territorio sotto il punto di vista della gestione integrata dei rifiuti. C'è una certa preoccupazione da parte dei cittadini per quanto riguarda l'aumento della Tari? Adesso noi non possiamo, è chiaro che avere una discarica in casa forse uno dei benefici è quello di avere tariffe più basse. In realtà adesso non possiamo dire con certezza se ci saranno o meno gli aumenti perché attendiamo la gara dell'Agir, capiamo come andrà l'affidamento e poi soprattutto quello in cui confidiamo è che migliori ancora la nostra raccolta differenziata e quindi il livello di indifferenziato si abbassi e quindi anche il conferimento che è quello che determina poi l'aumento delle tariffe sia contenuto.